e a me i amati mi sono alzati nervoso che non puoi immaginare perché e mi dà fastidio tutte queste queste barzette queste sorelle sui carabinieri come se siamo tutti cretini collega sta tranquillo andate a prendere è il solito luogo comune quale comune taranto o tranto foggia dipende diciamo una volpe proprio quindi e vi dici che questo è motivo penso che sia